Per due anni la Lega è stata attaccata, sputtanata, il mio nome è finito accanto alle tangenti, per due anni hanno indagato su di me, mi hanno intercettato, mi hanno fatto pedinare a me, ai miei collaboratori, ai miei amici, ma io dico, mi prendete per cretino, io mi becco 10 milioni e rimango qui a farmi un culo così, ma devo essere scemo proprio. Ma questi due anni sono serviti per passare ai raggi X tutta la mia vita. Essendo io trasparente come l'acqua, anzi più trasparente dell'acqua, non hanno trovato un cazzo, naturalmente. Ma si sono inventati questa cosa qui, questo avviso di garanzia, che è una cosa così ridicola, mi ha fatto incazzare e sono incazzato, ma sono tranquillo perché è una cosa così ridicola. Allora, io sono accusato di due telefonate che non ho mai fatto e risulta che non le ho fatte io. Allora, non ho fatto io le telefonate e mi indaghi me. Sono indagato per un viaggio a Tokyo di una delegazione della regione, dipinta come un viaggio in stile Prima Repubblica. Vi ricordate i viaggi della Prima Repubblica? Quanti ce n'erano? 30, 40, 50, parenti, amici? 110 con Craxi. Noi abbiamo fatto una delegazione di quattro persone, credo che sia il record mondiale, quattro persone. Ma attenzione, tra quelle quattro persone non c'ero io. e sono indagato per questo viaggio a fatto da qualcun altro. Io veramente non ho parole. Se questa è la giustizia italiana, ragazzi, bisogna fare gli scongiuri perché... Indagate pure su di me, indagate pure tutte le procure che volete, fate tutte le indagini. Non troverete nulla di nulla di nulla. Ma per par condicio, ma io dico, scusate, avete indagato su un viaggio ufficiale, organizzato col Ministero degli Esteri, a Tokyo. Benissimo. Fate le stesse indagini sui viaggi fatti da Renzi, dalla Chiang, dalla Chiang in giro per il mondo, dagli altri regioni, fatelo, e poi ci mettiamo a ridere. Sono accuse ridicole. Naturalmente ci provano. Ci provano perché la Lombardia e il Veneto ormai sono gli ultimi presidi della democrazia. Sono gli ultimi presidi contro l'invasione e l'occupazione abusiva della sinistra. E io so di chi è la colpa di questa insistenza dei magistrati. La colpa è di Matteo Salvini, che è stato troppo bravo. Hai portato su la Lega. Eravamo dati per morti. Tu l'hai ritirata su. E l'ultimo sondaggio di qualche giorno fa, dopo lo sputtanamento su di me in Lombardia, ci dà in crescita di un punto rispetto alla settimana precedente. Grazie anche a queste inchieste del cazzo. Girano le palle. Vi assicuro che per uno come me, che ha fatto il Ministro dell'Interno, che ha il rispetto delle regole più scrupoloso come faro della sua azione, girano le palle. Ma proprio perché ho fatto il Ministro dell'Interno, ho combattuto la mafia, non mi faccio certo impressionare da queste minchiate. Parliamo di cose concrete. Scusate questo sfogo, ma veramente quando uno... Va bene, ok. Parliamo di cose concrete. Io sono stato mandato dalla Lega a fare il governatore della Regione per fare cose concrete. Ne abbiamo fatte tante, tantissime. Dobbiamo comunicare meglio di più, è vero. Ma avendo i giornali che abbiamo, è per me come essere... Io mi sento un salmone, che deve sempre risalire la corrente, facendo una fatica della Madonna, schivando gli orsi, pescatori. Dobbiamo comunicare di più e di più, ma le cose che abbiamo fatto, che stiamo facendo, sono straordinarie. Abbiamo dato un miliardo di euro ai comuni della Lombardia per pagare i debiti che loro hanno nei confronti delle imprese, che non possono pagare per il patto di stupidità che va abolito subito nella riforma costituzionale, magari. Abbiamo cominciato a ridurre la pressione fiscale, abbiamo cancellato il bollo auto per chi rottama un vecchio auto inquinante e ne prende una nuova. E proseguiremo su questa strada. Abbiamo dato 30 milioni di euro ai giovani che vogliono metter su un'impresa. impossibile oggi. Non hai le banche che ti danno i soldi, non hai qualcuno che ti paga. La Regione, 30 milioni di euro per progetti innovativi e non gli facciamo pagare l'IRAP per tutto un anno. L'ultima giunta, abbiamo approvato una delibera che mette 7 milioni di euro per le giovani coppie, per consentire loro di acquistare la prima casa, per avere un futuro, un futuro. Abbiamo cominciato a semplificare, ci è venuta l'idea da un grande professore che è amico nostro, che dice a Surenzi opinioni ben precise, ben chiare, che condivido al 100%. Abbiamo avuto l'idea di prendere un po' di giovani per fargli fare giovani laureati e capaci che li abbiamo definiti burocratic angels per aiutare le nostre imprese. La burocrazia soffoca le imprese. Allora, se tu imprenditore hai un problema che non riesci a risolvere, hai bisogno di aiuto, mi chiami, a me è Regione, io ti mando questo giovane che fa l'angelo della burocrazia e ti risolve tutti i problemi e te lo fa gratis, a casa tua. Abbiamo fatto una legge contro le slot machine, contro il gioco d'azzardo che rovina, che rovina le famiglie. Abbiamo in corso un progetto molto ambizioso con il Veneto, con altre regioni del Nord per creare finalmente la macro regione del Nord, della macro regione delle Alpi che vedrà la luce fra pochi mesi. Quel grande progetto immaginifico, immaginario di Gianfranco Miglio, vi ricordate, la macro regione, adesso sta diventando concreta. Entro pochi mesi nascerà e noi avremo un ruolo da protagonista. Naturalmente queste cose sui giornali non le leggete neanche a pagina 68, 70 e 100, ma è una realtà ed è una realtà e diventa una realtà grazie alle battaglie della Lega. Nessuno ci ha concesso niente. Abbiamo cominciato ad abolire i ticket sanitari. È una promessa che avevo fatto in campagna elettorale. Grazie alla collaborazione, all'aiuto e al gioco di squadra con Luca Zaia siamo riusciti a far mettere nel nuovo patto della salute finalmente i costi standard che premiano le buone pratiche delle nostre regioni. Ci hanno riprovato in queste ultime settimane alcune regioni del Sud a ritornare indietro. Abbiamo fatto una battaglia straordinaria a Roma e siamo riusciti a riconfermare questo principio. In base alla prima applicazione di questo principio la mia regione ha avuto un vantaggio senza fare nulla, solo mostrando i conti di 54 milioni di euro. E ho cancellato i ticket sanitari per 800.000 lombardi. 800.000 anziani lombardi. e quando dico 800.000 lombardi mi riferisco a lombardi non ad extra comunitari che vivono in Lombardia. Queste sono alcune delle cose che abbiamo fatto alcune delle tante cose sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo facendo. Adesso vi dico però una cosa che non intendo fare e che non farò mai vista i temi di attualità. Non spenderò mai i soldi dei lombardi per accogliere e mantenere i clandestini. Mi hanno mi hanno criticato per questo perché nell'aggiornamento di bilancio nella modifica che facciamo adesso ci sono i soldi ci sarebbero i soldi 30 milioni di euro che però sono lì per finanziare il referendum sulla Lombardia regione a statuto speciale e lì rimarranno e lì rimarranno. Questo è il compito che io ho come governatore governare bene governare con onestà risolvere i problemi ma fare le battaglie della Lega e il segretario mi ha detto questa è la battaglia politica nel Veneto ci sono sensibilità anche diverse l'indipendentismo in Lombardia vi assicuro che la Lombardia regione a statuto speciale ci risolverebbe tutti i problemi facciamole assieme questa battaglia che è una battaglia che va nel segno dell'indipendenza regione a statuto speciale vuol dire che ci teniamo tutti i nostri soldi fine delle trasmissioni per chi ha continuato a rubarceli non entro nella discussione nel dibattito io sono il governatore faccio il governatore ho sentito il dibattito che c'è stato il nuovo centrodestra il centrodestra nuovo la coalizione sì la coalizione no io faccio il governatore e so che Matteo Salvini ha le idee ben chiare da questo punto di vista lui sa cosa fare sa cosa dovrà fare ha tutte le capacità le potenzialità le idee chiarissime il mio compito è quello di sostenerti Matteo di sostenere i tanti che nella Lega hanno una grande capacità di farsi valere uomini e donne ne abbiamo tantissimi ma sotto la guida di Matteo Salvini sono certo che faremo valere le nostre ragioni la Lega sarà il punto di riferimento centrale in qualsiasi sviluppo della politica italiana abbiamo dato questo segnale alle elezioni europee e penso che ci sono tutte le condizioni perché noi possiamo giocare un ruolo davvero da protagonista concludo concludo esprimendo una preoccupazione quello che sta avvenendo a Roma la riforma del titolo quinto è il tentativo di ritornare indietro di 40 anni è il tentativo di cancellare le autonomie di cancellare le regioni di riportarle come erano negli anni 70 vi ricordate il consiglio regionale approvava una legge ma doveva esserci il prefetto che la promulgava se no la democrazia non poteva esercitarsi a Roma qualcuno ha pensato nella prima formulazione del titolo quinto di andare in questa direzione cancellate le regioni cancellate le autonomie poi grazie all'eroico intervento di Roberto Calveroli eroico visto quello che gli è successo siamo riusciti a tamponare il danno adesso le regioni non sono più cancellate diciamo che sono commissariate decide tutto Roma e noi dovremmo dare esecuzione a ciò che qualche burocrate romano decide io non sono disponibile a queste ad accettare questo rigurgito neocentralista dobbiamo evitare caro Matteo che le regioni e le autonomie siano cancellate ma anche che siano trasformate in prefetture io non sono disponibile ti prego di vigilare su questo c'è molto da fare c'è la possibilità di creare un sistema che rappresenti le autonomie il federalismo il principio di sussidiarietà valorizzando i principi della democrazia uno viene eletto per governare non per fare il prefetto di Roma io non sono disponibile a fare il prefetto di Roma non sono disponibile a fare il pretoriano della burocrazia romana sono certo sono certo che la guida nella direzione giusta c'è ben chiara sono certo che Roberto Calderoli farà di tutto di più con tutti i suoi mezzi i suoi trucchi a fin di bene naturalmente per evitare che si torni indietro di 40 anni e per mettere la nave nella direzione giusta che è quella dell'autonomia del federalismo dell'indipendenza della nostra padania grazie a tutti e viva la Lega Grazie